Siamo con Marco Beneditti della Perugia, sì hai subito il gol all'ultimo, soprattutto poi dopo il gol c'è stata una parata miracolosa la partita comunque è stata combatturissima anche sul piano fisico, ve le siete date però forse avete avuto qualcosa in più anche andando 2-0 poi dopo cercando di gestire all'ultimo È vero, è vero, è una partita che è andata molto simile all'andata dove abbiamo giocato molto bene creando qualcosa in più all'andata dove poi abbiamo raccolto un pareggio per un errore mio alla fine della partita e penso che oggi servisse una prestazione come questa per recuperare quell'errore sono contento per com'è andata e soprattutto per la squadra che veramente non ha mollato un centimetro a livello difensivo abbiamo giocato contro la squadra che è arrivata prima in campionato vincendo quasi tutte le partite quindi veramente molto contento di com'è andata oggi Domanda veloce, adesso c'è la finale? C'è la finale, c'è la finale, non sappiamo ancora chi incontreremo anche se il Santos ha vinto l'andata con un buono scarto però nel calcio può succedere di tutto come questa partita di oggi dove noi eramo probabilmente sulla carta sfavoriti ma poi abbiamo dimostrato di essere superiori in campo Io ti ringrazio e ti faccio in bocca a loro, quindi per la prossima Grazie